La birra è sinonimo di compagnia e ritrovo e Rodman's è il posto perfetto. La cosa più importante è servire le persone, qualunque sia la loro birra preferita, razza o religione. Così fanno i tedeschi. No, non esattamente. Ora dobbiamo concentrare le nostre energie nel creare un'ottima presentazione. Così ho presentato un'IPA con sostanze allucinogia. Hai tentato di drogare tutti quanti. Tu tenti. E io ci riesco. I posti si completano a vicenda, ma voi insieme non fate una persona normale. Chi di voi due è il capo? Sono io. Conduzione familiare. Potrei quasi abbracciarli. È sempre bello vedere due animali lottare. Rimuovo i vestiti digitalmente e lo metto online. Oh mio Dio. Sto provando a bere da entrambe le cavità contemporaneamente. Come un centipede umano di birra. Già! Ma è un po' di più. Cosa? Credo che lascerò a Willy, Rodadio. Non credo che potrebbe farcela. Lo distruggerebbe mentalmente. Scusate, non ha ancora trovato la chiave. Quando perdo qualcosa, torno nei posti in cui sono stato. L'abbiamo cercata, ma non è nella mia vagina. E non è nel mio ano. Mi hai parlato sopra. Non è nel mio ano. Ehi! Ho ritrovato le chiavi. Cazzo, dov'è il portafogli? Attacco dei monaci! Ci ho pisciato dentro. Cazzo, sei buona! No! Persino il tuo cane è già ubriaco. Frate Lucas sa bene quando dire basta. No, davvero? Se no! 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 Grazie a tutti